È pronto a partire l'intervento clou del vasto progetto di riqualificazione del quartiere La Piastra previsto nel bando periferie. Si tratta di lavori del costo di un milione e mezzo e della durata di un anno sul condominio simbolo del quartiere. Previsto il rifacimento della piazza pedonale, interventi strutturali sulle coperture, sostituzione degli infissi, finiture esterne e tinteggiatura, sistemazione del tunnel di collegamento, revisione dell'impiantistica, nuovi ascensori e scale mobili. Previsti anche la realizzazione del ponte ciclo pedonale per il collegamento con il parco Bartesaghi, il servizio di videosorveglianza, un giardino e un parcheggio in via Giannoli e la sistemazione di quello davanti alla casa di riposo, oltre a percorsi ciclo pedonali e via letti nelle aree verdi già realizzati. Un'opera importante, spiega l'assessore ai lavori pubblici di Sondrio, Andrea Massera, fondamentale per completare l'intervento del bando. Il nostro auspicio precisa è che gli spazi riqualificati possano attrarre investitori interessati ad aprire nuove attività commerciali, offrire servizi alla popolazione. Il bando, grazie ai privati, prevede anche la riqualificazione di tre condomini da parte di Aler, la nuova sede della Croce Rossa, oltre all'ampliamento e una nuova centrale termica al bocciodromo.